In espacios cerrados, il humo del tabacco, las emisiones de impresoras laser y las mismas personas son fuentes de contaminación por polvo fino. Según el tamaño y el grado de penetración de las particulas, los efectos sobre la salud varían. Investigadores italianos buscan cómo usar las plantas como barreras naturales. Alberi e licheni per monitorare l'inquinamento da polveri sottili. Analizzando ciò che vi si deposita con la tecnica del biomonitoraggio magnetico, gli esperti di paleomagnetismo possono individuare la frazione di particolato proveniente dalle attività umane. La parte che contiene ferro, emessa per esempio dalle automobili o dalle industrie, è molto ben facilmente distinguibile rispetto alle sorgenti naturali che non hanno quelle proprietà di magnetismo. Con questo tipo di studi è molto interessante, grazie a strumenti come questo, riuscire non solamente a capire se le polveri che misuriamo sono di origine naturale o invece prodotte dall'uomo, ma nell'ambito di quelle prodotte dall'uomo quali siano le sorgenti. Per esempio è stato possibile dimostrare che in ambito urbano le polveri metalliche più diffuse, quelle proprio che hanno comportamento magnetico, provengono dai freni, quindi sono le cosiddette emissioni non esauste che si differenziano da quelle invece classiche da combustione che sono emesse dai nostri tubi di scappamento. Ma le piante non sono utili solo come centraline, sono capaci di mangiare lo smog. Con il progetto Chioma, che coinvolge anche Università di Siena, Accademia degli Incei, Parco archeologico del Colosseo e collezione Peggy Guggenheim, l'Ingv sta misurando la loro efficacia nell'accumulare il particolato, proteggendo la nostra salute e i beni culturali, come a Villa Farnesina, sede dell'Accademia Nazionale degli Incei, che conserva preziosi affreschi di Raffaello. Questi sono pacchetti di licheni che ci vengono forniti dall'Università di Siena e che esponiamo per tre mesi nei luoghi di cui vogliamo caratterizzare l'inquinamento. Li prendiamo in zone non inquinate e dopo tre mesi capiamo quali sono le polveri metalliche che sono state per esempio accumulate da questo tipo di centraline naturali. I risultati mostrano che la vegetazione è una vera e propria barriera naturale. Le foglie bloccano il particolato proveniente dalla strada. In questo modo si forniscono anche indicazioni alle pubbliche amministrazioni. A Roma, ad esempio, un albero molto efficace è il Leccio. Il prossimo passo sarà ripetere gli studi in altre località e in altri climi. Il progetto coinvolge già la collezione Peggy Guggenheim a Venezia e potrebbe presto estendersi anche all'Argentina.